Quali sono gli effetti collaterali di furosemide? Furosemide è un farmaco usato principalmente per trattare l'ipertensione e la ritenzione di liquidi. Queste condizioni sono in genere il risultato di un disturbo di un organo maggiore, in particolare del cuore, del rane o del fegato. Alcune condizioni possono impedire agli organi di funzionare in modo efficace. Questo farmaco può causare alcuni effetti collaterali che possono essere particolarmente pericolosi per una persona con ulteriori gravi condizioni preesistenti. Le persone che soffrono di effetti collaterali furosemide sono generalmente invitati a contattare immediatamente un medico. Uno dei più comuni effetti collaterali di furosemide è la disidratazione. La disidratazione è una condizione che si verifica quando il corpo non ha una quantità sufficiente di liquidi. Se si verifica grave disidratazione, può causare convulsioni, gonfiore del cervello o morte. Il farmaco aiuta a ridurre la ritenzione idrica provocando l'espulsione di più urine del corpo rispetto al normale. Per prevenire la disidratazione associata alla minzione in eccesso, un medico può monitorare attentamente l'assunzione di liquidi del paziente per assicurarsi che consuma abbastanza liquidi per rimanere idratato. Un altro rischio associato alla furosemide è una reazione allergica. Una persona che manifesta gonfiore della bocca o del viso, problemi di respirazione, o prurito macchia rosse di pelle, è generalmente consigliato di ricorrere immediatamente ad un medico e interrompere l'assunzione del farmaco. Se una reazione allergica a uno degli effetti collaterali di furosemide che una persona sperimenta, potrebbe provocare la morte se non viene trattata tempestivamente. Uno dei più gravi effetti collaterali di furosemide sono i cambiamenti nella velocità del battito cardiaco. Questo effetto collaterale può essere particolarmente pericoloso per le persone che soffrono di disturbi cardiaci o che stanno usando il farmaco come trattamento per l'ipertensione. Potrebbe far battere il cuore molto più velocemente del normale o irregolarmente. Il farmaco può anche causare altri sintomi importanti che potrebbero richiedere l'assistenza medica immediata. Gravi effetti collaterali includono dolore ai muscoli, nausea, vomito o secchezza delle fauci. Può anche causare la perdita dell'udito, un colore della pelle giallastro o lividi inspiegabili sulla pelle. Questi possono essere tutti segni che gli organi del corpo non funzionano correttamente e che il farmaco deve essere fermato. Furosemide ha anche effetti collaterali che non sono così gravi. Questi sintomi minori sono cose come vertigini, mal di testa, visione offuscata o mal di stomaco. Il farmaco può anche comportare movimenti intestinali irregolari, come costipazione o diarrea. Sebbene questi effetti non siano di solito considerati pericolosi per la vita, una persona può comunque essere avvisata di consultare un medico.